Se il piacere di guidare un'auto Kia è interrotto da un piccolo imprevisto, basterà recarsi nel centro assistenza più vicino per un rapido ed immediato intervento. Qui c'è chi ha il piacere di essere accolto con gentilezza e disponibilità. Qui c'è chi ha una persona competente e qualificata sempre disposta ad ascoltarlo e a valutare assieme tutti gli eventuali interventi da eseguire. C'è chi ha una corsia preferenziale senza bisogno di prenotare. C'è chi ha la tranquillità di poter contare sulla competenza di un team efficiente e sulla sicurezza dei ricambi originali. C'è chi ha l'auto pronta entro un'ora e la possibilità di attenderla in tutta comodità grazie a wifi e spaziose poltrone. C'è chi ha un'auto pronta di uscire. 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 C'è chi ha risolto l'imprevisto con la massima soddisfazione. C'è chi ha Kia Express Service e chi no